La manifattura Lamborghini è il processo produttivo che stiamo utilizzando per fare la Urus. È una combinazione unica tra la manualità, l'artigianalità, le abilità manuali dei nostri lavoratori che sono sempre al centro del processo produttivo e la potenza che ci viene fornita dagli strumenti della Factory 4.0, quindi della digitalizzazione dello stesso. Quindi abbiamo un unico processo che combina questi due fattori per ottenere un prodotto alla massima qualità, massima performance, con la flessibilità necessaria e anche con la possibilità di essere customizzato come il cliente vuole. Produrre la Urus Santagra è stata una grossa sfida anche a livello infrastrutturale. Per produrre una macchina che ci permetterà di raddoppiare i volumi produttivi nei prossimi anni abbiamo dovuto anche raddoppiare la superficie costruita dello stabilimento. In un anno e mezzo più di 600 aziende con 3.600 addetti hanno collaborato con noi per aumentare la superficie costruita dagli 80.000 m2 attuali ai 160.000 m2 che ci servono per produrre la Urus. Tutto questo però guardando sempre alla sostenibilità e all'impatto con il territorio. Tutti gli edifici costruiti hanno seguito i più alti standard ecologici, ambientali ed energetici. Per esempio la palazzina uffici rispetta lo standard League Platinum che è il più alto standard per questi edifici.